ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato allo zeppelin non si tratta né della band degli anni 60 70 né del dirigibile si tratta di un marchio che io ho anche già recensito zeppelin in passato qualche orologino economico di questo brand lo recensito preso naturalmente dal da qualche marketplace qua e là ecco in questo caso invece me l'hanno messo a disposizione l'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è parte l'ufficiale del canale e che è diventato concessionario di questo marchio zeppelin un marchio economico diciamo che però ha dei contenuti decenti almeno per lo meno decenti diciamo sono orologi fruibili io ho scelto questo orologio che si chiama alain robert ora che alain robert è praticamente un arrampicatore è colui che uno di quelli che si arrampicano ma non nelle montagne nelle strutture nelle città nei grattacieli la torre eferno è uno di questi matti che fanno queste cose particolari quindi è un'edizione limitata di 500 pezzi dedicata a lui che poi dovrebbe essere l'endorser di questo l'uomo il testimonial di questo marchio qua di zeppelin ora per fare una dipingere un attimino la storia di questo marchio zeppelin fa parte del gruppo pointec ecco è questo il punto che possiede anche altri marchi tra cui hai iron annie e possiedeva anche yunkers molti di voi l'avranno visti anche su internet questi yunkers orologi di stampo militare e fa anche da private label cioè in passato costruiva realizzava gli orologi per molti brand per cui audi per esempio insomma tutti quei marchi che volevano costruire orologi conto terzi li facevano fare da questa pointec che poi ripeto negli anni 80 90 ha iniziato a fare orologi con il proprio marchio tra cui zeppelin che andiamo a vedere oggi perché l'ho scelto perché l'abbiamo visto in una puntata una mia puntata in negozio e mi ha sorpreso il fatto che sia un orologio a basso prezzo con un calibro di buon livello anche dall'aspetto tutto sommato originale che non copia nessuno non è la copia di qualche orologio quindi i contenuti tecnici ci sono il marchio dietro è decente e quindi ho pensato bene di portarlo sul canale di mostrarlo a voi prima di farvelo vedere però vi faccio vedere il mio orologio del giorno che è questo simpatico long jean legend diver 39 mm di diametro cassa quadrante nero bracciale a chicchi di riso bag interna girevole stupendo orologio che per l'estate è già pronto per fare qualche bagnetto lo portiamo al mare noi non abbiamo paura noi gli orologi li portiamo al mare e gli facciamo fare il bagnetto adesso detto questo giriamo la camera diamo uno sguardo a questo bello zeppelin alain robert e ci troviamo poi qua per le conclusioni finali iniziamo come spesso accade menzionando le misurazioni effettuate sul campo diametro cassa 42 mm spessore 12.6 ingombro trasversale al polso 50 e interasseanza da 22 mm da segnalare che la ghiera misura 42.5 mm in quanto sporge leggermente rispetto alla cassa sottostante tutto ciò assieme ad un lag to lag importante lo rende un orologio sportivo da immersione che fa della presenza al polso una caratteristica ben evidente ciò che amplifica poi la sensazione di imponenza è il fatto che la ghiera è alquanto sottile e la superficie del vetro è quindi più ampia quasi ininfluente è invece il fatto che i finali delle bracciale siano fissi non snodabili certo questo allunga di un poco il lag to lag ma essendo molto inclinati verso il basso tendono ad avvolgere bene il polso tra l'altro rappresentano una scelta stilistica particolare in quanto il finale bracciale non appare suddiviso in maglie si pone come un pezzo unico e conferisce all'insieme un aspetto massiccio specie considerando che si tratta di un interasse da ben 22 mm passando poi ad osservare l'orologio lateralmente colpisce il fondello quasi a filo con la cassa e la ghiera alquanto contenuta in altezza anche se lo spessore generale della testa non fa gridare al miracolo siamo nella media lato carrour quindi che volge verso il basso in corrispondenza delle anse e che mette in evidenza una generale spazzolatura opaca non sono presenti biselli di transizione la lavorazione è contigua e l'incrocio di morbide linee in corrispondenza delle estremità anse è lì a confermarlo insomma una generale lavorazione satinata che gli conferisce l'aspetto da orologio da utilizzare come strumento di lavoro a confermare il tutto troviamo poi la corona vite che presenta una fine zigrinatura da sapore artigianale che mi ricorda quegli oggetti realizzati al turnio su due piedi e pronti per essere montati voglio poi spendere due parole di encomio sia per la manovrabilità che per la qualità della filettatura tutto fila via liscio come l'olio ruotando l'orologio vediamo che anche il fondello è evitato la cassa vista l'impermeabilità dichiarata di ben 200 metri e possiamo notare tra le varie incisioni quella che indica il numero unico progressivo che identifica l'edizione limitata non è da tutti diciamo che l'unico minus riscontrabile è il fondello trasparente che però in questo caso mette in mostra un calibro di tutto rispetto il miota 90 15 si tratta del meccanismo premium della casa giapponese un netto miglioramento rispetto agli entry level 8000 è sicuramente uno dei migliori movimenti di fornitura attualmente disponibili sul mercato un calibro che solitamente si trova su orologi più costosi e se non erro si tratta dell'orologio più economico con all'interno il miota 9000 diamo ora uno sguardo al lato a la sottile ghiera in acciaio vede una finitura nera pvd che mette in evidenza per contrasto i tempi di immersione riportati in bianco questo è un elemento che apprezzo molto il nero della ghiera e la zigrinatura della corona lo rendono particolarmente tool watch alquanto maschio occorre poi segnalare che la rotazione unidirezionale avviene su base 60 scatti solida e precisa senza intoppi come detto in apertura il quadrante è piuttosto ampio spazio che viene riempito con un fondo a stampa effetto fibra di carbonio che secondo me poteva essere realizzato diversamente non mi convince al 100 per cento ma comprendo anche che il price point a cui ci troviamo è piuttosto vincolante e non permette di fare i salti mortali avrei comunque preferito un semplice quadrante nero opaco non avrebbe certo implicato un costo maggiore occorre comunque dire che questa particolare trama pur essendo soggetta alla rifrazione non va ad inficiare la leggibilità generale che risulta essere decisamente buona numeri arabi a colorario del quadrante che appaiono ben delineati con il 12 che cerca di elevarsi dalla bicromia mostrandosi in giallo sfere a matita con anima bianca ben delineate e facilmente distinguibili e la lancetta dei secondi anch'essa ben in primo piano diciamo che l'insieme è tutto sommato decentemente piazzato eccezione fatta forse per la finestra data che trovo un poco disturbante vicina al 3 in maniera innaturale e con sfondo disco bianco in ogni caso si tratta di un quadrante con elementi stampati e con pochi punti particolarmente rimarchevoli diciamo che i tocchi di fino non sono suo forte buona la resa al buio in assenza di luce gli accenti sul quadrante rispondono positivamente ad eccezione del numero 12 mentre sulla ghiera la luminascenza è completamente assente rendendola non adatta ad eventuali immersioni non rimane che disquisire a riguardo del bracciale intanto occorre dire che nella scatola e nel prezzo è compreso anche un cinturino in gomma che risulterà facilmente utilizzabile in quanto sia il bracciale che il cinturino stesso sono provvisti di spring bars a sgancio rapido un'ottima alternativa per quanto riguarda poi il design possiamo notare che si tratta di uno stile che riprende il genere cosiddetto president ma modificato in primis si nota che le maglie sono alquanto distanziate in modo da lasciare un determinato spazio tra loro questo consente di alleggerire il bracciale di renderlo particolarmente snodabile senza il rischio che si sovrappongano o incastrino tra loro chiaramente è completamente spazzolato proprio come la cassa vista precedentemente e risulta essere anche ben dimensionato ad eccezione della clasp che come spesso accade è il punto dolente di molti orologi cernire interna in acciaio sottile e design da tipica scatoletta di fornitura standard senza alcun tipo di personalizzazione neppure il logo possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali eccolo qua secondo me come orologio può anche essere promosso soprattutto per il prezzo avete visto il prezzo cioè 411 euro di listino poi l'amico giacomo qualcosa vi toglie sicuramente si va sotto e 400 per un orologio con un calibro miota 9000 e con un cinturino in gomma aggiuntivo secondo me è un best buy può essere un best buy ora però come al solito noi andiamo a vedere a sfrucugliare punti negativi perché ci sono i punti negativi e vi faccio vedere anche delle cosine simpatiche allora guardiamolo così quale può essere il punto negativo numero uno se che secondo me il quadrante è un po' vuoto questo è un parere personale però quadrante un po' vuoto le sfere sono un po' sottili diciamo le lancette io ci avrei visto bene qualcosa tipo come doxa come zin che fanno quelle lancette belle larghe bianche arancioni avete presente che riempiono bene quadrante in questo caso con un quadrante così ampio ci sarebbero state bene come ad esempio poi le finiture le filture sono abbastanza economiche dai non è che sono di primo ordine non possiamo aspettarci un quadrante lavorato alla grande oppure anche le stella stessa finitura delle sfere se noi ingrandiamo non è che sono definite perfettamente no sono abbastanza tirate via il fondo del quadrante non la finitura non è di eccelsa non è di primo ordine insomma ora sembra quasi che lo sto smontando completamente però sono cose che vanno dette non ci si può aspettare le finiture in un orologio da 400 euro come quelli da 800 mille euro le cose sono differenti fatevi mettere un attimo l'occhiale perché sennò qua non si va avanti è purtroppo però poi ci sono anche dei lati positivissimi ad esempio la corona la corona secondo me è una delle quelle che ho maneggiato è tra le più efficienti possibili sia a livello di carica che di grip che di avvitamento del filetto proprio veramente cioè adesso dico magnifico me lo perdonerete dopo tutti i difetti che gli ho trovato se dico che una cosa è magnifica me la perdonerete poi vabbè la clasp qua con la cerniera sottile e la scatoletta che sembra abbastanza di fornitura poi però per contro il bracciale vero e proprio veramente di qualità fatto bene dimensionato spesso robusto con spring bars a sgancio rapido secondo me di tutto sommato è un orologio promosso poi come ho detto il punto maggiore cioè veramente il calibro il miota 9000 a 400 euro io non so in quanti altri orologi mi sono sbilanciato detto che secondo me è l'orologio più economico che monta il calibro 9000 di miota poi può darsi anche che mi sbaglio però siamo lì 411 euro secondo me è promosso è promosso e soprattutto è adatto per coloro i quali amano gli orologi un pochino di presenza perché 42 mm 42.5 la ghiera che poi è sottile quindi il quadrante ampio è insomma per chi vuole un orologio ben di presenza un diver un orologio per l'estate un orologio per il mare per la barca per le situazioni sportive non certo per andare a cena fuori o non so può mettere ecco una cosina che magari mi sono dimenticato ancora di dire il datario messo lì così vicino al treno non è che mi fa impazzire avrei preferito che non ci fosse perché in questo modo mi va anche a limitare la grandezza dei numeri i numeri arabi sono abbastanza piccoli rispetto al quadrante no e non ho potuto farli più grandi perché c'è lo spazio della finestra data che è lì quindi secondo me avrebbero potuto non mettere la data o metterla a 2 e 6 eliminando completamente l'indice il numero a 2 e 6 va bene comunque promosso è un bello orologio dai per quello che costa può essere un orologio che vale la pena possedere soprattutto per le situazioni sportive ho detto tutto dai a me mi sembra di aver detto tutto quindi io vi ringrazio per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video l'orologio il presentatore e l'orologio del giorno e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao